Mi spiego qualcosa sul progetto Alphabent, che è un progetto che lavora sulla diversità per sviluppare praticamente quello che è stato un'esperienza all'inizio scolastica quando Alfredo si è iscritto alla scuola di Valendici di Bologna per suonare la batteria. L'evoluzione in praticamente una decina d'anni ormai che ci conosciamo è stata prima di coinvolgere gli altri allievi della classe di batteria e poi formare un vero e proprio gruppo, prima con alcuni membri allievi o insegnanti della scuola e finalmente arrivando a una vera e propria vendita che è diventata questo quartetto. Il primo pezzo è l'unica cover che facciamo, il resto sono tutte composizioni di Alfredo, soprattutto i test sono suoi mentre gli arrangamenti li abbiamo fatti collettivamente. Buon prossimo video! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.